Ciao ragazzi e benvenuti ad un altro episodio di Vivere in Florida. Sono El, so che mi già conoscete e oggi parleremo di un argomento che specialmente a voi italiani è molto molto vicino come cosa. Parleremo del Covid, del coronavirus, il Covid-19 che da più di un anno è con noi e come noi lo trattiamo e come viviamo in Florida con il coronavirus. Allora, so che purtroppo in Italia siete ad un altro lockdown per due settimane, so che avete le zone rosse, gialle, arancioni, verde, azzurro, chi lo sa non si sa. In Florida, a dirvi la verità, quando è cominciato a marzo dell'anno scorso, il mio ufficio, che è un ufficio medico, ha chiuso solamente per tipo un mese, ma ha chiuso tipo un paio di giorni alla settimana e facevamo solamente operazioni non elettive, ossia solo operazioni che erano necessarie, tipo rimozione di melanoma e cose che comunque avrebbero impattato sulla salute del paziente. Per il resto abbiamo trasferito tutto su visite virtuali. Poi, vabbè, a quel tempo dovevamo mettere la N95, quindi la maschera N95, perché comunque ha un livello di filtrazione più alto, essendo, non so se sapete queste cose, comunque vi spiego un attimo le maschere e come funzionano. Praticamente la N95, tutte queste maschere hanno queste filtrazioni, hanno questi buchetti minuscoli che voi non vedete, che in base al tipo di maschera che è, filtra un certo tipo di virus o batterie, eccetera, eccetera. La N95 è fatta per patologie che vengono trasferite airborne, quindi attraverso il contatto di tosse o starnuti, tutto quello che viene trasferito ad aria, quindi airborne. Quindi la N95 ha questi forellini piccoli, 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 che non fa passare questi virus. Per questo, quando il Covid è uscito, abbiamo fatto la N95. La surgical mask, ossia la maschera, quella normale, questa, è una maschera surgical, quindi questa ha la minore filtrazione in assoluto, però è sempre meglio di queste, che praticamente queste di tessuto non è che tengono più di tanto. Questa almeno qualcosa filtra, filtra le particelle più grandi. Questa non vi filtrerebbe, per esempio, l'influenza, capito, perché si passa ad airborne. Con questo capite adesso le tre differenti maschere. Quindi ricapitolando, N95, filtrazione maggiore, filtra 95%, per questo si chiama N95, filtra il 95% del virus, batteria, quello che c'è da filtrare. Maschera surgical, questa è quella che dobbiamo usare adesso, filtra le cose principali, molecole grandi, maschera di tessuto, è giusto per proteggere gli altri. Comunque, ritornando a ciò che dicevamo prima, il Covid non è, veramente qua si vive normali, tutti i negozi sono aperti, tutti i ristoranti sono aperti, è a discrezione del proprietario del ristorante, se o negozi, di fare o meno usare la mascherina. C'è comunque un certo livello di ancora distanziamento, quindi i ristoranti, tanto il ristorante, solitamente vi distanziano un pochino, ecco, e magari, sì, per i grandi gruppi, eccetera, fanno aspettare, eccetera, eccetera. Comunque, qua tutta la normalità, ragazzi, cioè, io neanche mi rendo conto che ci sia questo coronavirus, grazie a Dio. Perché? Perché in Florida possiamo fare ciò che ci piace? Perché, ragazzi, la Florida è uno stato repubblicano, e lo è sempre stato, da tantissimi anni. Perché? Perché tutti i militari, tutti coloro che vanno in pensione, tutti i... è uno stato dei pensionati, soprattutto, no? Quindi questa gente ha lavorato tutta la sua vita per quello che ha, e la maggior parte sono repubblicani. Ciò vuol dire che la maggior parte in Florida ha votato repubblicano. Essendo il governatore repubblicano, De Santis, ha lasciato tutto aperto, quindi noi facciamo quello che vogliamo. I vaccini contro il Covid sono iniziati per noi che lavoriamo in healthcare, a dicembre 2020, quindi a metà dicembre, ci sono stata data la possibilità di fare i vaccini, quindi questi erano quelli della Moderna, per dove lavoro io, altri ospedali o altre cose mediche, cliniche mediche, magari hanno avuto la Pfizer. Quindi questi erano i due vaccini iniziali, Moderna o Pfizer, e sono appunto quelli che bisogna fare il distanziamento del primo vaccino e poi il secondo viene ad un mese di distanza. Il Moderna ha avuto più side effects per quanto riguarda le persone giovani, quindi tantissime delle mie colleghe che hanno fatto il vaccino con Moderna, le prime 10-12 ore, appena hanno passato quelle 12 ore, tac, i sintomi del Covid, quindi avevano chills, febbre, stavano malissimo e ha durato 12 ore esatte praticamente. Quindi parecchie delle mie colleghe sono rimaste a casa e niente, invece il Pfizer sembra di avere meno side effects, effetti collaterali. Adesso è venuto fuori pure il Johnson & Johnson, che è solo un'amministrazione. La mia dottoressa dice che non è meglio, assolutamente, che è meglio fare quello con i due vaccini, quindi o Moderna o Pfizer. E se vi chiedete come i vaccini sono stati fatti così velocemente, quando di solito c'è una FDA, tutti questi prerequisite che bisogna passare, ci sono anni e anni di test scientifici dietro, questi sono stati fatti così velocemente perché l'hanno dichiarato uno stato d'emergenza. Quindi in America hanno cominciato a fare queste cose scientifiche, questi test scientifici, e se solitamente il vaccino funziona così, fai la prima parte del vaccino, poi lo testi e stai lì un bel po' di tempo per vedere se ci sono effetti collaterali dopo. E praticamente poi, quando hai finito la prima fase, tac, cominci la seconda. La seconda poi aspetti, vedere cosa succede, eccetera, eccetera. E così per la terza fase, quarta fase, mi sembra che i vaccini siano quattro fasi. E questo è quello che ci impiega anni per un vaccino per essere amministrato e per essere in legge. Cosa hanno fatto con il Covid? Hanno praticamente messo questi quattro stages, questi quattro differenti passi in uno. Quindi hanno testato tutto con un solo test. E voi dite, ma allora perché non lo fanno con le altre medicazioni e questo vuol dire che non è safe? No, vuol dire che è uguale a come se l'avessero fatto in quattro, però l'hanno fatto su un colpo solo, che praticamente sarebbe una cosa migliore, non sarebbe una cosa che dovrebbero fare con tutti i vaccini. Perché non lo fanno? Perché costa un sacco di soldi, costa un macello di, stiamo parlando di migliaia e migliaia di dollari, se non milioni, adesso non lo so, che hanno fatto appunto solo ed esclusivamente perché questo è un'emergenza sanitaria. Quindi per quello li hanno testati tutti e quattro insieme. Infatti tantissime case farmacologiche hanno pure perso parecchi soldi facendo questo vaccino. Lo amministrano gratuito a tutti, a tutti coloro che lo vogliono prendere, quindi o Moderna o Pfizer, dipende dove lo offrono. Lo offrono in farmacie, in negozi tipo Publix, Walgreens, basta mettersi in fila e online, bisogna fare il coso online, e ti vaccinano. Quindi tantissimi dei nostri pazienti sono vaccinati. La cosa brutta è che non si sa se effettivamente quanto dura questo vaccino, se è una cosa che bisogna fare annuale, se dura un paio di mesi, non si sa. Se lo puoi prendere lo stesso e non avere sintomi e passarlo agli altri. Queste sono cose che purtroppo ancora non si sanno. Fatto sta che in Florida siamo aperti, non ci siamo fermati, io ho sempre vissuto la vita tranquillamente con la maschera, e niente, quindi siamo veramente fortunati, purtroppo a differenza dell'Italia e di altri stati come New York, tutti gli stati democratici, che sono stati shut down, quindi veramente proprio chiusi. Ecco, quindi questa è la situazione della Florida, penso che il Texas sia pari nostro, perché anche quello è uno stato repubblicano, e con questo spero di avervi chiarito un attimo le idee sul Covid, sul coronavirus e lo stato qua in Florida. Niente, praticamente siamo tranquillissimi qui, si vive tranquillamente, adesso con tutta questa gente che si vaccina c'è quello che si chiama herd immunity, quindi l'immunità degli altri, quindi è come quando la gente e i bambini si fanno tipo la varicella, il vaccino della varicella è sempre obbligatorio, vabbè, però, oppure anche l'influenza, se siamo in dieci persone in questo gruppo e otto hanno l'antinfluenzale, cosa vuol dire? Che la probabilità degli altri due prenderla è molto bassa, questa si chiama herd immunity, quindi questa è la stessa cosa che sta succedendo con il Covid, con il vaccino del Covid, quindi più gente lo fa, più herd immunity anche per gli altri, ecco. Quindi con questo è tutto, dalla Florida, da questo bellissimo canale Vivere in Florida, grazie per aver guardato il video, mettete mi piace, fate commenti sotto al video YouTube se avete qualche domanda, se volete saperne di più e ricordatevi di iscrivervi, come sempre ricordatevi di iscrivervi al mio canale Vivere in Florida, ciao!